L'avvocato Alfredo Codacci Pisanelli, figlio dell'onorevole Giuseppe Codacci Pisanelli, già Ministro della Repubblica Italiana, è fondatore dell'Università del Salento e membro dell'Assemblea Costituente. E proprio in questa veste l'onorevole Giuseppe Codacci Pisanelli promosse la Regione Salento. Una Regione Salento che poi svanì nel nulla. Avvocato, che cosa successe in realtà? Allora, mi fa moltissimo piacere che oltre 60 anni dopo si parli di questa questione, con particolare enfasi e passione. Mio padre nel 1946 era uno dei più giovani costituenti, era del 13, quindi aveva 33 anni. Aveva raccolto tra la volontà popolare quella che era la dignitosa e orgogliosa volontà di qualificarsi come salentini da parte del popolo del Salento, diversi da quelli che erano gli abitanti di Bari e di Foggia. aveva proposto di istituire una Regione Salento distinta dalla Puglia. E la proposta passò. Fu approvata dalla Commissione. Poi cos'è successo? Quando è arrivato in aula, questo lo leggo dagli atti dell'Assemblea, si è arrivati a votare su quell'articolo e, essendosi fatta ora di pranzo di quel giorno, non ricordo quale, nel 1947, si è sospesa la votazione. Quando è stata ripresa non si è più votato quell'articolo, ma è stato ripreso solo qualche giorno dopo e la Regione Salento era scomparsa. Perché è stato veramente artefatto, cioè falsato, il testo portato all'Aula. Non è stata l'Assemblea Costituente che ha voluto cancellare la Regione Salento, è stato qualcun altro, ma noi non sappiamo chi. Io ho provato a fare delle ricerche in proposito, non c'è nessun documento, soltanto voci riferite indirettamente portano a individuare alcune persone che si sarebbero arrogate il diritto di cancellare quella che era la volontà popolare. Mio padre mi aveva insegnato che le leggi dell'ordinamento giuridico sono come le leggi grammaticali, cioè non è che si impone qualche cosa, si raccoglie la volontà di un popolo. La volontà di quel popolo salentino oggi sta riemergendo e mi piace moltissimo questo. E sono contento che si sia costituito un comitato che si è fatto portatore di questa volontà. È bellissimo. Perché suo padre non insistette con la Regione Salento? Lui ha insistito e ha insistito fortemente. Ovviamente a suo modo non era un uomo che amava urlare o fare delle scenate. Poi anche con l'approvazione della Costituzione non è che i cittadini si siano resi conto che era stata istituita o meno una Regione Puglia o una Regione Salento, perché comunque le Regioni non sono state realizzate subito, solo nel 70, 22 anni dopo. E cos'è successo? Che per un tacito accordo è stato fatto presidente della Giunta regionale sempre un leccese. E in questo modo pensavano di aver tacitato le esigenze di individualità da parte del popolo salentino. Se voi andate a chiedere per le strade alle persone che trovate, tu sei pugliese, quasi tutti vi risponderanno con un bellissimo, orgoglioso individualismo. Sono salentino. Questo indica che la popolazione di questo territorio si sente salentina. E questo è molto bello. Cosa è successo allora in sede di Assemblea? Per me può saperlo soltanto chi era testimone diretto. Ormai purtroppo sono sempre di meno. Per me lo può sapere uno dei più giovani costituenti, che proprio per questo era stato nominato come segretario della Commissione del 75, che sicuramente sa, ricorda e secondo me ha anche il piacere di riferire cosa veramente è successo. Chi è? È l'onorevole Giulio Andreotti. Chiedetelo a lui.